ciao ragazzi sono natalie in questo video vi farò vedere come fare una base simile bianco latiginoso con un po di glitter allora come vedete le mie unghie hanno tre settimane e mezzo forse anche quattro ed è ora di rifarli quindi cosa ci servirà io ho un barattolino vuoto l'ho pulito per bene dentro per non mischiare vari prodotti poi ci servirà gel gel trasparente io ho questo quad in dead e monofasico ci servirà una base semi permanente abbastanza liquida perché voglio diluire leggermente gel per avere la consistenza delle basi che utilizziamo per rinforzo delle unghie base fiber base boulder poi ci servirà anche semi permanente bianco potete utilizzare anche pain gel bianco tanto ci servirà pochissimo solo una goccina e ovviamente dobbiamo mettere dei glitter vi faccio vedere cosa o questi qua sono glitter molto molto belli o questo pigmento olografico o questi glitter sono anche questi abbastanza grossi e poi o un altro pigmento aurora semi la questo pigmento qua forse si vede poco e oro e verde si vede forse un po sulla boccetta molto molto bello ci servirà qualcosa da mescolare io prenderò bastoncino d'arancio e quindi possiamo cominciare prendo barattolino mio bastoncino d'arancio e cerco di trasferire un po di gel dentro al barattolino se non siete sicuri non mettete troppa roba così potete fare un miscuglio e vedere se vi piace e poi magari replicarlo io vado a riempire barattolino per circa due terzi ora prendo base semi permanente come vi dicevo deve essere abbastanza liquida potete utilizzare quelle che avete in casa o al lavoro metto due o tre goccine perché voglio diluire leggermente gel per me la consistenza del gel è troppo densa prendo subito anche semi permanente bianco e vado ad aggiungere anche qui un paio di goccine se non avete semi permanente perché non lo utilizzate potete aggiungere solo un po di pain gel comincio a mescolare dobbiamo mescolare abbastanza lentamente per creare meno bolle possibile io tutti i momenti di mescolamento ho velocizzato per non far durare i video troppo mi sembra che ancora poco bianco e quindi vado ad aggiungere un'altra goccia di semi permanente bianco perché voglio ottenere il colore bianco latte ma che sia coprente anche in questo caso velocizzato video quindi andiamo a mescolare abbastanza lentamente meno bolle creiamo meglio è ecco la consistenza che mi piace la consistenza è bella coprenza anche quindi tutto è perfetto cominciamo ad aggiungere qualcosa di luccicante io comincio dal pigmento aurora come vi dicevo ai colori di oro e verde ovviamente si vede di più sui colori scuri questo pigmento è abbastanza grosso ci sono anche dei pigmenti molto più fini quindi più pigmento è grosso e più si vedrà nella nostra miscela come vedete aggiungo subito anche pigmento olografico e grigio scuro quindi lo metto poco comincio a mescolare come vedete già tutto il nostro miscuglio molto molto bello noi possiamo lasciarlo anche così quindi potete aggiungere solo dei pigmenti e quindi non avrete dei pezzi grossi all'interno della vostra miscela guardate quanto è bello io l'adoro io invece voglio aggiungere anche qualche glitter allora i glitter che vi ho fatto vedere all'inizio questi qua sono troppo grossi quindi ho deciso di non utilizzare invece utilizzo questi qua sono glitter bianchi trasparenti con effetto sirena quindi vado ad aggiungerne un po e poi mescolo questi glitter dopo vi faccio rivedere alla fine di nuovo le mie unghie sendo grossi si vedranno alcune quasi in superficie gli altri un po sotto velate sotto a questo biancolate ed è un effetto molto bello se avete dei glitter leggermente un po più piccoli potete utilizzare quelli mescoliamo per bene ed ecco la nostra miscela a me piace tantissimo la cosa molto importante che ogni volta che la dovete utilizzare dovete prima mescolarla perché questi glitter più grossi vanno sul fondo sempre purtroppo ora stendiamo questa miscela sulla tip così vedremo com'è come vedete io utilizzo pennellino di una boccetta di semi permanente perché perché io non sono abituata a lavorare con i gel quindi non mi piace tanto stendere con i pennelli da gel anche se a volte lo faccio e quindi ho preferito tenere una boccetta vuota di un top e utilizzare questo pennellino per comodità quindi io procedo metto uno strato sottile della nostra miscela poi nella parte superiore vado ad aggiungere un po di prodotto e vado a stendere come se fosse sto facendo sulla mia unghia un rinforzo poi mi aiuto sempre con lo stesso pennellino della boccetta per distribuire bene il prodotto se siete più comodi potete prendere un pennellino molto sottile e aiutarvi con quello e adesso come in ogni caso di rinforza di unghia o di una copertura di unghia vado a rovesciare la tip per alcuni secondi e la mando in lampada nel frattempo prendo un patto imbevuto in cleanser e pulisco il per bene tutta la boccetta fuori altrimenti il nostro gel può sporcare tutto e tutte le volte noi andiamo a sporcarci ecco l'effetto della nostra miscela guardate secondo me è molto bello è veloce da fare e potete personalizzare tutte le volte che create nuovo colore io ovviamente aspetto i vostri commenti se vi è piaciuto questo video se volete provare a fare una cosa simile e il like a questo video saranno gradite di nuovo vi faccio vedere le mie unghie guardate come brillano glitter grossi sotto questo biancolatte come vi dicevo glitter grossi vanno un po nella boccetta sotto sul fondo infatti quando ho cominciato a fare secondo mano ho cominciato dal mignolo e vedete qua dei glitter grossi su queste due unghie non ci sono proprio infatti mi sono accorto e dopo ho mescolato tutto come sempre chi vuole provare e ripetere i miei tutorial mandatemi le foto dopo con il vostro miscuglio sulle unghie oppure sulle tip e io farò vedere nei prossimi video le vostre foto oppure nelle storie del mio instagram e facebook sotto nella descrizione a questo video a proposito troverete mio instagram facebook dove ci sono tanti tutorial delle nail art passo dopo passo allora ragazze io aspetto i vostri commenti i vostri like ragazzi nuovi iscrivetevi e scrivetemi sotto nei commenti se vi va che faccio un altro video dove noi creiamo un colore cover io avevo l'idea di fare un colore cover un po rosato con dei glitter e l'altro color cover più color carne senza glitter quindi se vi va scrivetemelo fatemelo sapere giù nei commenti se volete sapere cosa mi sono disegnata sulle unghie andate a vederlo su instagram e facebook e io invece vi saluto ai prossimi video ciao ragazze